Grazie agli amici di YouTube che ci vedranno domani appena prendiamo la partita e trasmetto il video anche a loro. Come al solito era una vita che non facevo la live, avevo la camera un pochettino spostata. Meglio, un po' meglio. Bene, stasera siamo su H1Z1 con gli amici della community PlayStation Battaglia Squad e vediamo se riusciamo a sopravvivere, se ci ricordiamo ancora qualcosa di questo gioco. No. Eh beh, ora pretendi troppo, vincere addirittura senza armi. Ok, io ci sono. Che che manca adesso? Manca Licio che arriva più tardi di solito perché lui, il tempo che arriva a casa, mangia. Licio è un ottambulo, Licio gioca di notte. La nostra birra da combattimento è pronta. Quella non manca mai. Allora, fai qua. Com'era? Fin del gruppo? Continuo. Sembra. Match phone. Ok, perfetto. Sì, e se fai completa ci trova il quinto, ma possiamo anche andare il quattro. Ma sono troppo forti, no? Sono troppo forti. Abbiamo già... Allora, raga. Eh. Mi ha chiesto un pazzo. Dunque, la squadra stasera prevede... Temporale. Il nostro Tungustenum, lo Stratega. Gigi Rocks, che è una new entry su H1Z1, almeno per quanto riguarda le nostre partite, e il caro Dark. Più tardi probabilmente ci raggiunge anche il caro Gliccione, ma aspettiamo perché il nostro Gliccione è un ottambulo. Ma ricominciamo come al solito la partita sempre in mutande, molto bella come ogni volta. Anch'io, appunto. E cosa sono sui caricamenti? Mi vedete a me? Ciric, ma tu mai ti chiami su YouTube? Uguale? Eh, sì. Allora, guarda, in generale se cerchi su YouTube, Facebook, Instagram, basta che cerchi Ciric88 o la tarra del Ciric... Andiamo se togliamo gli altri. Ok, adesso cerco una... Andiamo se togliamo gli altri, raga. Era un po' effettivamente che non facevo la live. 96... Ok, adesso hai 97 iscritti, grazie a me. Ne ho così tanti? Porca cane. Pensevo di meno. Non sono riuscita. Ma dove? Ma dove siete voi? Buono, io sono tipo vicino alle classifiche. No, le classifiche non le guardo qui. Eh, devo far continuare, ho sbagliato. Sì, le classifiche sono per i pro, noi giochiamo per il gusto di morire. No, in realtà avevo il programma di portare anche qualche live del Battle Royale. Quello stile medievale, perché mi ci sto divertendo un pochino. Attualmente è in beta, ma è simpatico. Solo che in questo periodo non hanno avuto... Ma quella, quella che trasformi con le bacchette in polli, quel cacchio è? Bravo, è quello lì, è quello che quando muori diventi un pollo ai 30 secondi per tornare in vita. È bellissimo, è simpaticissimo. Anche più semplice rispetto a H1Z1 o a Fortnite. Ok, andrei su una macchina, ecco, stiamo sotto sotto. Ecco, andiamo giù giù un picchiato allora. Ah, c'è anche un quinto. Sì, sì, ho sbagliato, lo fa continuare. Oh, regà, è la prima partita che faccio con un team, perché fino adesso fai assolutamente solo. Fai assolutamente singola. Ok, ciao amico. Che c'è questo, boh? Ce l'ho io. Ah, ecco. Oh mia, ci sono cose da battaglia. Ho preso di stivali. Ok, io tanto tempo che non gioavo con questo gioco, eh. Allora, vediamo un po'. E l'assalto lo metterei di qua. Tac. È una cassa qui, biggino. Tac, tac. Chi vuole una R, qua, da me. Qua c'è un casco. Scusate, scusate. Non mi ricordavo come si cambiava l'arma. Il tuo bianco lo girico, è che cacchio è questa esplosione. Eh, non mi ricordavo come si cambiava l'arma. Oh, ok. Un veicolo è un quad, quindi va male. Ma solo io uso gli R15. No, io ci ce l'ho R. C'ho anche io. Il quad che si sta avvicinando, prendete... No, quel quad sono io, eh. Ah, ok. Sto vedendo i veicoli che ci sono. Ma i veicoli che io... Vabbè, sì, sono massimo quattro, giusto? Cioè, sono da quattro si può essere. Da cinque, da cinque, perché la squadra è composta da cinque. Ah, già, è vero. Che stupido. Ma, tra l'altro, dove siamo? Vabbè, dai, abbastanza al centro. Ah, buono, eh. Ma dove siamo messi come mappa? E' più un po' se c'è, tu, guarda. Ottimi. Con gli stivaletti qua da me. Ci riquini. Eh, qui c'è un altro R15, se volete. No, gli stivaletti ce li ho. Ah, ecco. Io un altro R15. Ma cosa è che se non ce le fanno meno rumore, giusto? A loro del genere. No, le R15 è mitraglietta, però è... No, in stivali. No, in stivali di più. Sei un po' più veloci. Oh, cavolo, ho messo il blocco per... Per la visuale con lo zoom. Quei siete. Ma in realtà è più utile, non devi tenere schiacciato. Sono io quello che... Allora, aspetta, che colore siete voi? Mi stavo già per sparare addosso. Io sono blu, azzurrino. Vabbè, azzurrino. Sì, marancione, sono io, cirica verde. E giallo è quello lì. Oh, ciao, Tobi, non avevo letto il tuo messaggio. C'è TobiGran che ci sta seguendo. Arrivo con una macchina. Grazie. Bravo, bravo, io ci ho freddo. No, ma fa qua la macchina, io. Due, ma io c'è qualcosa lì. Arrivo, arrivo. C'è uno in macchina che non è un nostro amigo, però. Ah, no, sì, sei te, ok. No, sono io, sono io. No, no, no. Ho avuto un corpo. Dobbiamo un corpo. Ragazzi, io non c'ho un casco. Eccolo. E dentro, dentro, dentro ci sono. Ma qua c'è Nino? Arrivo, eh? Aiuto, aiuto, mi sono castrato i fai pali. Buon Dio, tutti piccato. Dove fa quello giallo, è qua con noi, o sei andato? Non lo sai che sta a mangiare a lui. Io andrò. E' una mala prendere. John. John. Bene, se eri già andato quello col pagassino. Anche se io rimanei qui, sinceramente. La cassa è già andata. Sì, vero. No, ma è inattivo, questo, c'è. Vabbè. Io sinceramente cercherei di camperano qui, in zona. Voglio andare a prendere quella cassa verde? Sì, dai. Aspetta, ancora là... Ah, ok, eccolo, l'ho visto, ok. Oh, vabbò. Ah, tranquillo, ero di tratti. Comunque qua, secondo me, c'è gente, eh. Qualc'è? Oh, beh, la prima volta che c'ho qua, è tutto Z1 sul nuovo televisore. Si vede benissimo, eh? Beh, sulla prova, su... normale. No, c'era ancora sulla normale. Dici che devo spostarlo? Dovi rientrare. Perché è la roba, un po' persa. Non è nessun tetto? Non me lo è nessun tetto. Ah, qua, 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 ragazzi, qua. H1G1 non me lo dava tra i giochi con potenziamento sulla prova. Eh, ma sì, non è un gioco, magari. Vedete tutto, prendete tutto. Vabbè, butto giù la pistolina. Sì, ci sono dei 7,62 con munizioni, promette c'è un fucil di precessione. Bresta è esposito da chi lo vuole. Eh, sì. Eh, sì, chi è che ha preso i colpi, per capiglio, mi ha preso i colpi. Eh, aspetta, adesso te lo do. Perché non trovo più il mio R, l'ho buttato giù per sbaglio, ma non lo trovo più. Vabbè. Porco cane. Ah. Aspettate un attimo, non so che... Eccolo qua dove finito, eccolo. Oh, perfetto. Andiamo via raga, l'avevi fatto? Andiamo a camperà in zona. Bo, ditemi voi dove andare, boh. Vai dentro, dira qua a destra. Andiamo a camperà in questa zona qua. Ce n'è in casa? Stiamo qui se... Non si può sul tetto. Sul tetto, vabbè, cerchiamo intorno. Dira intorno, magari... Non so se c'è qualcosa per camperà. Ah, qui è troppo visivo qui davanti. Oh. Questo è chiuso. Passù? C'è due piani qua, abbiamo un passo aperto. È chiuso. Eh, vabbè. Un troppo davanti a noi. Eh, ho visto. Ma hai avuto partite così tranquille? Ah, qua. C'è una morda, in qualche parte. Ah no, non c'è una. C'è una morda. Oh, siamo ancora dentro, belli in safe. Sì, sì, questo dovrebbe essere il centro perfetto. Il mio camper è lei qui. Un po' di raffreddare un passo aperto alla bocca. C'è una scatola vicino... Dove non è neanche tanto lontano. Non so se con la macchina ce la facciamo. Cazzo, è pure viola. Oh, ma... Arrivo qua... Nascondetemi, raga, nascondetemi. Nascondetemi dentro... Cazzo qua, dentro... Sì, vengo anche qua, dai. Sì, appena lo vedete davanti, vi sparate in bocca. Con il fuggile a pompa, se ce la vede. No, io ce l'ho, ce l'ho. Allora, io posso guardare la porta qui. Ah, anch'io con la telecamera, così. No, mi sei cadato a vedere... Abbiamo perso le armi, però. Non è giusto, non ci arriviamo alla fine. Raga, com'è che si faceva a togliere la roba della mira? Cioè, che ti rimane nella mira senza... Lo zoom dalle impostazioni. Eh, aspetta, vediamo... Che cavolo è? Bene, infatti... Qualcuno è morto. Il nostro alleato è morto. Ci ha aiutato tanto. Grazie per averci aiutato. Guarda. Ma raga, il cerchio è all'altro lato, eh? Eh, siamo ancora al limite, però ci siamo ancora. Sì, sì. Vuoi siete fermi? O non ci vuol qualcuno? Sì, senti che esplode tutto. Speriamo che ci troviamo la macchina fuori. Eh, no, è qua fuori, è da noi, qua dietro. Nella mappa c'è scritto, c'è scritto già la macchina. Potevamo anche spostarci volendo, eh? Eh, magari prendiamo la macchina, no? Riccardo, no. Piano. Sì. Sì, sì, no, 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 ma qua 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 hanno, c'è anche sulla mappa c'è scritto. Ah prendiamo prendiamo questo. Torna indietro, torna indietro. Ah già assume giusto questo. Dai dai, chi guida? N'hai dimenticato uno Ci sono dimenticato Eccolo sotto Dove andiamo? Va su quell'altro angolo della strada C'è un angolo Va dritto, segue la strada E qui Hai dritto Ok ok, si sono presi dopo del parco Sinistra, poi destra Sinistra Ah dove c'è il drop, andiamo? Destra Ora non c'è andato perché mi sa che è pieno Quindi? No, l'hanno preso L'hanno preso Vai a sinistra, a destra scusa Allontanati da lì E vai Posso dire a sinistra? Sinistra No, è a sinistra, è dentro, dentro qui Sinistra Vai, vai dritto No, che andiamo giù per il campagna Sì, vai dritto E poi Trampo a porta a sinistra e vai sempre a dritto Ok, si chiude a sinistra il cerchio Sinistra, vai adesso Vai a sinistra Cinque Ma qui vai dritto, coltivo a dritto Madonna quanta gente ci vuole Vai dritto, vai dritto, vai dritto, vai dritto Vai dritto Guarda come due angolo Questo angolo qui Qui c'è il centro, sì Siamo qua Questo angolo della strada Parcheggio lontano, è qua Parcheggio lontano Parcheggio lontano, idrate Questo auto piano è chiuso Occhio qui Entra, entra, corri Ok Ok Kirik, vieni dentro Tete pompa Certo ragazzi, sto gioco C'è le safe piccole ma Tanta gente Sì, ti fa piena Anzio a sto gioco Siamo 14 gruppi E guarda C'è quanto è bello piccolissimo No, MC mi ha invitato Perché MC mi manda gli inviti? Forse sei sbagliato E oggi Non stare troppo avanti alla finestra Dove è visibile No, ma qua è tutto chiuso Mamma mia raga Siamo proprio Ti sento le mie spalle Posso da qua? Così vedo C'avete le granate? No Sì Ok No C'ho le MP Lì, cosa le sono? Io ho quella Quella sabna mia Quelle macchine Quelle auto Io ho quella a gas E le fumogene A gas Ci ripure noi Mi sa Sì E fuoco amico C'era? Ok Mi sa Per le granate Sì Io ho Le Fragman Volendo potremmo sparargli Quello Beh io volendo Potrei mettere anche la balestra Però non vuoi rifare danni No La balestra Ti uccidia solo Se è troppo ravvicinato Finardo Allora io guardo il centro Minchia il centro era più su Si chiude proprio davanti al negozio Anzi dentro il negozio Bene come se nessi raga A me qui non c'è bocca nessuno Non c'è qualcuno Si è aperto What the fuck Vai Occhio Se vengo andato qua E' a terra Si Eccolo E' morto A le spalle Vieni qui Vieni qua Vieni qua Vieni qua Attento Chiudo Ok raga andate pure Fate What Cazzo Su qua la mente E' la Cazzo Prova Manchiamo ancora Non andare nell'angolo Non andare nell'angolo No Dobbiamo scappare L'ho sparata io quella Manchiamo da tanto Non dovrebbe arrivare fino a noi No no non siamo Ok adesso Guarda dove sono io Mi dice Ecco se vado Fermi Fermi State i combattiti Venite qua da me Ah C'è la mente No E Via via Poi c'è la mente Allora Vedi quei due Stanno andà Dovamo arrivarsi pure noi Dove Vedete quei due Così sì 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 Occhio a destra o a sinistra Occhio Ce li abbiamo avanti No 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 Ok bravo Via 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 qui Dai Cazzo Cazzo mi sono bloccato su una rete Via via Dentro 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 Via Via Ce n'era due Occhio eh Di qua di qua Di qua Raga pompa Pompa Qui Qui Cazzo Sono sul tetto Quei figli di puttana Lo state fermi Siamo sul punto Dai dai Siamo stati Va eh Eh dai Credo che noi Il caschetto Ok Ho bisogno di nuovo Tutto Un chio Siamo ancora 17 Sì C'è stato in questo puntino Madonna C'è che è abituato Adesso l'ho lasciato ma abituato a fuori Sì C'è appena Inizia a portare Un strago Invece qua Non c'è No Però è perché Cominciare qua Ma dalla granga Occhio 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 Eh appunto Dove? Ma c'è Ma c'è che c'è il masto laggiù? No 15 Sento qualcuno sulla destra Sì Mi sento dappertutto Sto Intanto Cazzo Sazzo Eh Arrivano colpi qua Stava in città Oh Ce ne avete Indentro Ambra Figlio della merda Occhio che ne avete uno dietro Ne avete due dietro Come dietro? Sono proprio dietro di voi Dietro la casa Dietro barricata A me tanto more col gas Perché sta fuori il zone Ragazzi non siamo in sezzo No no sono in zona Sono in zona Sono proprio dietro di voi Ok Venite qua da me E da Tung Che siamo in sezzo Sono dietro quella porta che è davanti Dark Otti otti Davanti Eh lo so In base Ma qua sono nascosto Ma se passa non li vede C'è uno a destra L'altra porta Sì 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 Oh madonna No Che cavolo Grazie ragazzi Ho uno è morto Morto Grazie Oh stavo Vieni qua Vieni qua Vieni qua No No Vai Porca vacca Correte Correte Eh ma non ce l'ho C'è fuori vita C'è voi Voi ho un team da 5 Adesso Madonna No Sopra Da sopra No Bastardo Ma fai Da dove Siamo arrivati Raga Perfetto Ma come ha fatto ad arrivare da sopra È dietro Sta a farmi dietro Quello a morire fuori Sta a farmi Sta a farmi Lì Che cosa fa È dietro a te È dietro a te Asso Vedi Ecco è Non ti faccio Non ti faccio Che c'è il gas Non puoi entrarli Sì ma è tutto un altro Appena fa il giro È morto Quello è tutto un altro Se muoiono Arriviamo Occhio Che forse uno sta partito E se fanno Occhio Mamma Eh vabbè Beh ragazzi Però siamo arrivati a secondi Oh quella partita 5 kill e 3 assist Io Due kill Mi sembra perfetto Ho 3 kill Gigi 3 kill Bene Ecco Io ho 2 assist Ottimo dai Per essere la prima Dopo tanto tempo È andata bene Eh Tana è normale Secondi Bene Grazie a John Che ci ha aiutato Se ci fosse stato il quinto Per non giocare da tanto Veramente tanto tanto tempo Ci siamo cavati bene Allora siamo tutti Mi sa che manca Gigi Sì Dove si torna indietro Contorna Tornare al menu Ah se no al menu Sì Allora è proprio Il suo avatar che è scuro Eh sì Ma io ci sono Sono nel Mi dice che sei in un match a 5 No No siete voi Che siete in In Diciamo del menu principale No Sì siamo Prova a far partire Partire Magari Tutti i match con Sì No Partita Ha lasciato un partita Vabbè adesso usciamo E rifacciamo il gruppo Eh provo Ok io Adesso abbandona Non so non lasciamo Appena c'è Porta in game Ok io Ho quitato E sapremo Provo rientrare Non ti fa entrare Almeno mi sa Prima di essere il tuo invito Ok il tuo invito Ah non lo spaventare Quindi usciamo Non mi fa prendere Sì sì Spero Ah ecco Ecco Cosa Oddio No stiamo uscendo Dalla partita Ecco Mi sembra un po' Sì Sto un po' Baggato Cioè Caracchio Però non potete Tu la stanza Cirica Ok Ha voluto Ravviare il gioco Perché si era bloccato Non so Più Vabbè Tanto Non c'è Tanto C'è La vita Che Tra poco Erano le 21 34 Quindi Capace Passo Leader Passo Leader Ok Stiere Che Leader Capo Che Mi Di Agili Trovo Ho Vengo L'acqua Vai vai Ah raga Avete una cassa Intanto Poi devi pure Abrirla Io ho finito No io non ce l'ho La cassa Beh intanto Invitatemi Eh ma non Non ti vedo Ok Adesso Un attimo Sta entrando nel menu Sì sì Non è arrivato Adesso Arrivo Accetta Aspetta Un attimo Che vado A cambiare Occhiali Ok Sono dentro E ci sono Come ti trovi Sul forum Ok Decisamente Meglio Molto bene No ma sai cosa Che Sì sì Non mi piace Ma sai cosa Che io l'avevo creato L'account Già a tempo fa Poi l'avevo Abbandonato un po' E sono ritornato Recentemente E no Bello Non è un nuovo Dante No già da Un po' di tempo Però Tipo 2014 Non avevo il genere Però Cioè non ero così attivo Nel senso Che partecipavo Le cose Cioè partecipavo Perché poi Adesso questa è la mia Seconda serata Vabbè ma guarda Anch'io ho ripreso Molto quest'anno Con i ragazzi Anche Ciri Che era un vecchio Dante Sì Ecco Sì ho visto La descrizione Sono vecchio All'alba Dei 30 anni Cioè vecchio Per i ragazzini Che assolutamente Giocano Sì Sono vecchio Vabbè io Vabbè io parlo di Sì Per quanto è il mio E' 30 E' per quello che Io ho avrei Fornite Io ho la tua metà Ecco Giusto per Proprio Quindi vai chiedere Il gruppo Vi sa Spero anche la mia Eh dai Mi ho 35 Eh vabbè Darti invece È un ragazzino Eh Vabbè 92 quindi 26 E' più giovane E' più giovane Bisogna trovare Uno tanto Ancora più giovane E non fanno Senti Il nuovo junior Ah Il figlio Di MC Quando gioca Con noi Ah Quando ripassa I 6 dollar Quando giochiamo A quella delle macchine E sì Che segna 20 gol Voi domani sera Ci siete Per roba di GTA Giusto Sì Ecco Ma come attività Cosa che fate C'è robe random C'è gare Su Uno Ste robe qua Ok Insomma Ce ne suoniamo Di santa ragione No ho visto qualche Tipo di Secco Un pezzo di una live Quando Avete fatto Una serata In GTA Ma GTA Ma come facciamo Quelle tipo Le cose Immagino Non ho più estrapolato Le clip in cui Canticchiavo Nella vecchia live Di H1Z1 Noi andiamo raga Di GTA Di posto Ma io c'è sta bene Ci sono Ci sono Ma dove cavolo Si Ma non Proprio La resta Da i dritti Così come Sare un mondo Ci sono Che all'arancio Oh no Ancora La rossa Ma siamo Dentro nel nulla Cioè Però c'è Una macchina Ma non Ma quindi Non c'è La macchina E' un quad C'è la Un quad Hai Sato Un quad Sempre Terragi Ma di Da queste parti No no E' un quad Porca In serio T'ho detto Che è un quad Quello già Lughe C'è D'arte E' un quad E' tuo Eh Aspetta Che è un po' lontano Ma immagino Di sì Sì E' un quad E' un quad E' un quad Vabbè ragazzi Tu covresci Ah vabbè no Se non siamo così Lontani Diciamo Ma con Sì E' un quad Io ho trovato Oh io Ce ho già Una k Perché ho aperto Una cassa Buona Già L'unica Nel mondo In questo Cosa Qua Trovata Ma il lago Si può Traversare Sì Sì È una macchina Dark No Quad Qui c'è un quad Rottamato No Vabbè questo Naturalmente Rottamato Ma il quad È proprio per uno Giusto C'è uno Basta No è due Ah due Abbandoniamo Full Qua Basta Magari Vado a prendere La macchina Andate voi Andate a controllare Quell'altra macchina E vado Io a prenderla E comunque Qui siamo parecchio A bordo Stavolta Confermate Che posso Andare In acqua Con quad Sì Intanto sto full Se non è L'acqua è bassa L'acqua è bassa Non è bassa Non è bassa Ah allora sei attivo Stronzo Allora ti muovi Andare su quel simbolo Degli assassini Verso il mio Cosimo Gli assassini Dove? Verso il simbolo No ma qua c'ho Dove sono io? Ecco quella macchina No Ma è un sport Un altro quad Rischi Chi ha la ragione Ma c'era solo Gigi Eh sì Sto cercando di vedere Quella macchina lì Che non è una macchina Un quad Allo spazio Non è che arrivo Vabbè Ma che è spostato Via lì E io mi sto spostando Verso il centro E potremmo andare Due a due Proprio è Dove siete? Non sai Ma io sono qua Non so chi è Boh Io mi sto spostando Verso il centro Come passa lì? Eccomi Vai Andiamo verso il centro E ma gli altri Dove le cose li lasciamo? Io ho il mio quad Io ho il mio quad Aspetta che vado da Ascini Allora Aspetta Ascini qui Ascini qui Allora Se questo qua si muove Questo è un veicolo Ma sa Ma non lo so Prima lo sparato E si è mosso Quindi non credo sia inattivo Questo è un veicolo Aspetta È un veicolo Eh è salito No no Qui c'è uno qui C'è uno qui Oh gente 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 C'è un conto sono qui Più di uno Ok uno è morto Praticamente C'è uno C'è uno di vita Una roba del genere Ho evitato Un sacco di volte È ancora morto Un po' pieno C'è un posto Robo Oddio che arma ho trovato Cos'è non l'ho mai trovato Quest'arma io C'è una macchina più avanti Dov'è K.H.43 C'è uno Buono buono Sarà una bomba di arma Perché è epica Infatti È una bomba di arma Eh stai andando tu dark Verso quella macchina Sì sto vedendo Cos'è Che Io vado verso il centro Che me ne segna un'altra Chi che è Oddio C'è uno Vediamo cos'è No Porca vacca Qua ci stiamo tutti C'è uno Oh c'è un altro Questo atterraggio È andato male Ok No è morto Quello Vincia da me Occhio c'è uno Che sta a far giro Ieri Occhio c'è un macchinone Ti è beccato Il blindato Sì Vieni qua Inizia A vedere qua Ok Sono lì A sinistra A 3.30 No No c'è due di vita Di quella vacca È sicuro No Sono morto È qui È qui Eh no 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 Guarda che guarda gli altri Dove sono gli altri Aspettatore Il mio corpo Inquerato per guardare gli altri Ma che macchina è questa Non è misto Un bello Di quad Vabbè Guarda questo è tipo un carroarmato Cos'è? Un'altra 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 No è già qua Ah ok Non so dove andrà Io ho una pistolina Una schifosa Eh anch'io ho una pistolina Il cazzo Vado avanti Sì Cioè metti dritto a te c'è qualcosa Eh Metti qui Guarda se trovi qualcos'altro Oh c'è nel tuo bagno c'è qualcuno Che la batta batta Oh che aveva stampato Basta che questo qui non scappa con il veicolo Oh c'è il bagno eh C'era qualcuno Scarpi In quinta In questo posto Eh C'è un cavolo Oh cazzo C'è una cassa Qua avanti Una cosa Prendete la macchina E andatela Eh Prendete la macchina Prima che Eh io sono più vicino a piedi Ce la faccio Prendi la macchina Cirica Raggiungi Atacca Che sta andando sulla cassa viola Blu E viola Appena arrivi lì Sei morto C'è qualcuno Oh Ma questo Paura Sì Prendi lo zaino Ce l'ho Adesso ce l'hai Mi non ce l'avevi A posto Ma con la sta giocando Un po' Ah no Si si muove Quanto che te Correte Ho trovato un M9 Avete preso tutto lì Non lasciate niente In giro Io vabbè Non posso Apigliare tutti i Ieri Eh E le granate Guarda Intanto non le so usare Ecco Neri 1 Sì ma Quello è soltanto Vieni C'è la macchina Ah Lui Si sta Si sta Abbandonando Si è stato È schiattato È morto Quello è morto Non è andare lì È morto È morto Via Questa mano È iniziato un po' male Questa mano Eh Non è bene Avete trovato la macchina Come si sta Non è morto Grazie Che si chiude E mezzo a nulla Che granate Già Come è impostata Dark Dark Penso quello Come ho generato Tu Ecco l'acqua Quella Un bel cambio in caso Lampere non te serve Mettina granata Of flashback Dove si ferma Sulla montagna Si chiude Infatti si Ah non lo so Come lo fa vedere Né Carissimo Sa Qua se vuoi anche In quel punto Viola Nascondiamoci Squalk C'è studio Forse anche in quel punto Viola Guarda In alcuni armamenti Non abbiamo niente Io mi nasconderei Dentro quella Qua sopra Bene Oh Ci sono delle casse Dove Eeeh Sto volando Sopra la tua cassa Ma è quella di la Questo si chiude qui eh Vai dalle casse Non c'è andata più C'è una macchina di polizia Stanno andando Via davanti Via davanti Via davanti Via davanti Via davanti Shhh C'è casita Campera 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 sopra Oh Oh C'è un bagno Campera 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 Non c'è un bagno Campera Campera sopra Eeeh Siamo Sto C'è un bagno Vai davanti Non c'è un bagno Non fa di rumore Non stai sgammato Eh io sono silenzioso Campera 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 Se sei qua Qui C'è una cassa C'è un bagno Ma va dentro quella Chiesa Ma qua è una chiesa Nei occhi Sì Dovrei trovare anche Qualcos'altro Con ci Una cassa Qua c'è una cassa Tantissima roba Ma è un po' lontano Vieni qua Vieni qua Vieni in casa Eh ma lì però Troppo sgammabile Vai quell'altra casa Aia No Mi sta andando troppo al bordo Sei sul bordo lì Non si stringerà mai Quel cerchio Eh lo so Dovrei andare su quell'altro lato Io ero quella casa Quale casa? Vieni che c'è una casa A sinistra Avanti a te adesso Io ero quella casa C'è il centro O saliamo lì sulle scate Stiamo all'interno O andare sopra quella gru Eh E ci sono tanti spot Il problema è che Non vi dovete mai abitinare Con la macchina Perché con la macchina Andiamo poi in alto Vediamo un po' No No è sotto È sotto quella casa lì Vedi? Là sotto devi andare Ci deve fare andare là sotto Avanti a te Dark C'è quella casa lì Sì la vedo No Ti puoi infilare sotto Come sta Ma che la macchina di polsia Oh no Ma che giallo In mezzo Allora A 285 C'è stata un'esplosione No No Li torano lassù Dark Se esco adesso Un po' Non è arrivato Dovevi spostarli Quello Y Hulk C'è qualcosa Troppoporter Qua E cos'è Di consiglio Da dietro Unici gruppi, 32 giocatori E gruppi da tre No, adesso non è qua No Cazzo Poletto di non sparate Eh, no Eh, questa si andava male Eh, stavolta è andata male Stavolta è andata male Eh, è partita proprio male Eh, quando non trovi niente all'inizio diventa ancora più difficile Poi quando ti separi, quando il gruppo si sfalda subito E poi abbiamo visto la partita di prima, dei stati secondi Cioè, eravamo praticamente spawnati nel mezzo alla mappa già lì Sì, sì, anche quello, anche quello, indubbiamente Vai Eh, vi risulta che stanno Vi siete ancora nel... No, no, sì, sì, siamo tutti Siamo E io però vi vedo in file match Io fa continue, civico, no, X Continui Cerchio Quando trovi la partita Ah, ma si possono anche prendere le skin dei veicoli Non lo sapevo stato Sì, le puoi personalizzare dal... Eh, no, stavo un po' sbirciando dentro Puoi personalizzare tutto Giocatore, armi, tutto quanto A seconda di quello che poi sblocchi, che trovi Potresti usare, come ho fatto una volta io, il completo, quello bianco Che è assolutamente mimetico È perfetto per mimetizzarsi in mezzo alla neve che in questo gioco è assente Oh, tutti in mutande senza testa, alcuni anche? Sì, è questo problema del caricamento iniziale Vabbè, ma non è che... No, a me è diretta a mettere su, ma la facciamo Andiamo su... Su negozio Vabbè, che faccio vedere la mappa Io ancora non vedo niente No, anch'io, ho ancora in caricamento, sono Mi sto atterrando L'aspetto di... Come? Ha già vinto, lui Noi siamo ancora... Oh, vai Andiamo al negozio, allora Sì, mi vedete? Eh, siamo a bordo Andiamo in questo negozio Tu, tu stai andando nel negozio, sei nel negozio C'è pure una gassia qui Ma dove sto andando? Comunque la fisica, cioè per atterrare ovviamente non ce n'è proprio Sì, gli atterragi sono... No Orrendi proprio Fatti malissimo Mamma mia Allora, qui vi segno una macchina Ma sto vedendo se ho una macchina o un quad Ehm... È un furgone Oh, c'è un furgone Mi teniamo in faccia Qua c'è la macchina Qua c'è la macchina, scusate Ah, bello Mi sape non usare Messo È chiuso il negozio Eh, vabbè Ah, sulla macchina Salite sempre sulla macchina Cos'è meno La bloccate Non la vedono sulla mappa più che altro Sento un quad Sì, un quad anch'io Ecco, io non ho armi da vista C'ho pistoline schifose No, io trovo la macchina Aspettate C'è qualcosina Ho trovato l'attrezzatura completa in realtà Allora andiamo verso la città, raga Che lì troviamo più oggetti La macchina E andiamo... C'è chi c'ha la macchina? Io, io Ok Salite Andiamo in città Rancito andiamo Rancito Andiamo, ok Siamo tutti? Che manca? No Io Un attimo Quel cavolo sei? Da quale zona? Valla a prendere Sì, vado Ma è fatido Vieni in zona, civichi Vieni in zona Vieni in zona, civichi E io sì Devo luttare un po' Perché non c'ho niente Un po' sei Sì, ora andiamo direttamente al centro C'è chi non mi qui A giù va Vieni, vieni Dove che siete? Vai qui Madonna Vai retromarcia Ah, retromarcia Ok Ok, vai sempre dritto Sì, sempre dritto Segui via Dritto Però non prendi muri E c'è anche una granata Vieni sempre questa strada così dritto Che arrivi al centro Andiamo più dritti Ci buttiamo Sì Che andiamo a prendere qualche cosa In mezzo Comunque dai che bello Che abbiamo ripreso finalmente con le serate Uff Mamma mia Ok, ottimo Questo è Che skill Questo è ai livelli di Yugi, eh Ah, guarda Fermati qui Vai verso Restra E c'è un palestrino Vediamo se troviamo qualcosa Ok, va bene Fermiamoci in queste casette Eh, se no Andiamo oltre senza armi Beh, è rotto giù Perfetto 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 Fermati qui Allora Zenetto Comunque si sopra robe decenti E basta con queste pistole Oh, le trighetta Allora, cerchiamo sulla macchina, dai Ci spostiamo con la macchina Porta la macchina qui Porta la macchina qui dove vado io Tu sei il giallo, ok Sì Arriva Chi è con la macchina? Io Eh, chi è? Tu bianco Vai a cercare dentro queste case Oh, ma non ci sono armi normali Invece tutte queste pistole qua Stupide C'è un fuggire a pompa, raga Prendeteli Ok, l'ho preso Allora Soprattutto le granade Sembra che non fanno niente Non mi disarbono No Raga, siamo fuori zona, eh Oh, casco Qua c'hanno zaino Pistole, pistole Madre Non solo pistole Qua C'hanno qualcuno con la macchina Ok No, assolutamente Ah, c'hanno fuggire a pompa qua È un paio di scarpe Medikit Mitraietta Io risargo un po' di racconto Ma pensavo che era una mitraietta Invece è tipo Una mucca Giocattolo Scusa e non si sta cavando No, ma non c'è niente No, ma non c'è niente No, ma non c'è niente C'è niente C'è niente Qua diventa Un po' di racconto Un po' di racconto Vieni Un po' di racconto Ok, vai al centro Madonna Ma sì, tante ancora 78 E' la benzina Ce ne si vede Trova tutti un po' di racconto Eh Cio Allora vai dritto, vai dritto, vai dritto, seguo la strada Ok Ci fermiamo al distributore E' una strada, sai chi sei? Ci fermiamo qua o non ho avanti? Ehm Doviamoci un altro distributore Tu come sei a me? Sì 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 Io trovo Io trovo una cappa Ma io ho qualcosa Ah, io stavo a quanti Sì Sono già passato No, no, è aperto È aperto Raga, è aperto È già stato aperto È andato in via Ops Pensavo che ero il pilota Ancora Ma io ho qualcosa Solo che non ho munizioni Ah, io, gente, gente, gente qua Ma è impossibile sparare da questa cosa C'è una cassa qua fianco La cassa qua fianco C'è giante lì Dove Eh, ma ce ne sono più di ora Eh, minchia No, le mie Sono una calavanti posti Ahia C'è un colpito Ognuno prevede Prendiamo il passato Prendiamo il drop, dai Tanto Tanto non vorrebbe esserci gente No, non c'è Sono tutti nascosti Ok, alla collina Via Via, via, prendete Io, allora, se c'è un assalto Lasciatemi L'arrivo bisogno Sì, a me hanno messo la mia Vedete i giubbocchi Qua c'è un bel caschetto C'è un capacca Hai preso il capacca Sì, sì, ho preso Giubbotti, niente Qui c'è un altro Ah, ecco qua Ok, questo qua Giubbotto non c'è Non ce l'ho Allora Qui tra poco la macchina muore Vai dritto Vai dritto Così, vai dritto così Ok Vai dritto Vai giù La montagna Il distributore di vendina Abbiamo avanti Occhio Vedo una luce rossa Mi sa che è quello Il bombardamento Sì Quella è bombardamento Non è bello Che sta lì Fisso Proviamo a vedere Che macchina è Magari la cambiamo Ah no Quella sarà il blindato Quella sarà il blindato Andate a sinistra Andate a sinistra Vai 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 Qua si è blindato Qua si è blindato Qua si è blindato Qua si è blindato Ciò la fai dritto Dai Agli aprianta MC Guarda MC Ok Ma tieniti così Non tieniti così Che vai L'unico La strada Arrivi Vai 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 Mi sa che si chiude Nessuno Quella O su un pezzo La città O su un'angola O su un'angola Qualcosa Che resta Ok Gira Gente Ante noi Tutti Qui chiude Qui chiude Qui 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 Nel mio Occhio Gente 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 Oh Ma 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 Ci hanno distrutto Ma guarda che attrezzatura avevano Ah questi adesso mi devono dire dove pigliano i fucili Ma veramente Cioè io No Quando vedi le skim particolari Sono le skim che bloccano Ci he tirato un botto di cose No, io ho sbagliato, scende, perché non volevo scende. Io le ho piazzato anche una granata Nempi addosso. Vabbè dai, stiamo recuperando. Non sta andando male, dai, siamo quasi sempre in top ten, dai. Oh, è arrivato Licio. Eccolo Licio, aspettiamo Licio. Licio, Licio. No, non ci sono aggiornamenti, vai tranquillo. Mitrocirica. Intanto ci riempio. R2.000 e R2.000. Tondo Tiacovacci, guardato, ricarichi. R1, lanci le granate. Tenendo premuto destra, selezioni la granata, tenendo premuto... Aspetta, prima l'attavo il gioco. Premendo L3. Sì. Come in ARC, con R2 miri. Con R2 spari. Sì. A parte avere le gambe calde, no. Direi che possiamo partire. Ah, aspetta. Da dentro, sì. Sì, sì. Ma guarda, la mia... È sul tiragraffi. Stasera, se proprio volete vedere una mascotte, abbiamo questa come mascotte, ecco. Eh, anch'io ce l'ho qui sul divano. Anzi, per una volta che non sta facendo la cozza, di solito la fa appena mi carico al letto, la lascio stare lì, tranquilla. Sì, siamo in Davide, ma te non hai la condivisione con l'audio, quindi... Sabe, tu ti sono fatti i diari. Sì, non ti sentendo, non vieni registrato tu. Antirentraccia. Sì, tranquillo, si parte sempre con questa versione gay friendly. Allora, raga, cercate gli altri, vedete se trovate gli altri. Allora, vè. Tondo, se ti arrivo in moto ti stendi. Oh, ragazzi. Allora, faccio... Antizio. No, non c'è. No, 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 non c'è. Se ti arrivo in moto, selezioni le granate. Se tieni premuto... Col destro le selezioni, tenendolo premuto. Con R1 le lanci. Se tieni premuto invece L1, puoi selezionare l'arma. O se lo premi una volta, passi da un'arma all'altra. C'è la ruota delle armi di GTA. È la ruota delle armi di GTA. Le virgolette, proprio... Sì. Solo che in GTA, se Premiere 1, praticamente, metti via l'arma. Non ci sono... La Royale non ne fa. Questi siamo un circo. Non ce l'ha, non l'ho visti. mi sa che sono io mi sa che sto andando da tutta l'altra parte ok ottimo eh si sono tutto una volta riuscito a schiattarsi con il precadute chi è questo? come al solito vado a vedere no vado a vedere se quella la macchina è la si qui c'è una macchina prendi una macchina c'è anche una cassa aspetta no mi vedrò in giro qua c'ho qualcosa qua c'è un po' di munizioni ma ci sono un po' di munizioni ci sono in questo coso si fa anche qui c'è vado io ho la macchina aspetta che hanno detto che sia una macchina ah ok perfetto vi raggiungo no con triangolo oh triangolo vado vi raggiungo eh si raggiunghi ecco la mia prima arma ho trovato adesso ok io sento una macchina dov'essere mi sto scederò della montagna scederò scederò della montagna scederò no quella macchina non è mia quella non siamo noi c'è un'altra macchina ah è qui io scendo lei sale io sento una casa dov'era ma si che suona? io ok arrivo qui c'è un po' di roba zaini se volete io ho solo una pistola qua è brutto però il resto ce l'ho io ho trovato la balestra come siete? non c'ho una pistola ce la mani? qui come siete? eh un attimo ci faccio un piccolo del cazzo che cazzo vai dove sei tu? chi c'è il licio? sono sta ecco perchè non ti vede sulla macchina? che cavolo è? perchè non vede il licio? anch'io c'è stanza malverde? e d'acqua dove sta? ah ma stanno tutto 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 ah ecco dove c'è la la fabbrica tipo mhm allora scusate che sono ah mi inizia eh un po' un po' guarda allora c'è la macchina prendete macchina o corde insieme e incontrarci sull'aeroporto preangolo preangolo c'è stato un apparanzo saspara chissà che ci siete sulla montagna quel dritto e sulla mappa li vedi le icone è una cassa si 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 prendiamo il drop va vai qua vicino no cazzo l'hanno preso ah no ole e tu uuuuuh a cappa chi ha preso chi ha preso ok adesso sono a posto le frecce la faccio io eh ah ci sono un po' di zona guardate guardate e quindi tutto ok vai qui sono vai in zona vai dritto dov'è fuori il zona raga si se vuoi essere lì becchiamo ok ecco io che si è lì vai 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 oi non andate lì venite verso di noi non andate lì che c'è la gente lì andiamo a prenderli incontriamoci incontriamoci venite diretti a noi c'è un altro drop a sinistra c'è una cassa a sinistra incontriamoci sulla cassa incontriamoci sulla cassa che siamo in due noi li fanno spaventare ecco allora raccogliendo le bende medikit giù e sinistra giù per le bende e sinistra per i medikit eh che non è istantaneo cioè nel senso non ti danno una vita istantanea va progressivo cioè nel senso siamo piano no siamo noi siamo noi a questo ho letto la cassa ok vedete c'è vabbè medikit c'è un 5 a me mi serve il casco d'aria va bene c'è proiettivo è qua eh la molesta eh ho preso io il fucile d'apriccina ok ok se becco la giusta situazione con questo mi diverto su una mamma e se volete qui c'è 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 un altro arco con le frecce ma la mamma non c'è nulla per direttore ok ma le frecce sono esplosive vorrei sì ecco ecco ecce sono esplosive ok dove andiamo infatti le ho messo proprio come arma perché si arriva qualcuno dietro gli spavano una bella frecce esposive faccia buoniamo la giusta a me guarda sì il centro è così io superavo io superavo il conto lì davanti a te lo vedi e si sia visto risasso no 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 e questo è siamo modi in pubblica in pubblica ma donno non si è tirato giusto poi giocato per un attimo pesa di sesso spazio d'osso ma non è dopo al ponte dovessi andare verso testa troppo sulla destra forse li ah andiamo a macchina andiamo a macchina è un troppo viola dietro eh un ragazzo un troppo viola davanti scusa un troppo viola davanti vai vai è quella è quella volò la macchina è un troppo il via più avanti mi sa che c'è un dato e raga ci sono i giubbotti qua ce ne sono due via 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 a salvi tempo anche occhi 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 ho detto la macchina non amo via oddio nooo non amo la gas al drop ventesimi zero kill zero di nulla proprio eh peccato perchè stavolta avevamo trovato un bel po' di roba all'inizio peccato ma avevo detto io non andavo al drop c'era la macchina polizia dovevamo andare la panna e quella ah avevate vicio all'auto? mhm eh allora no il drop è voluto che sentiva quell'attacco aereo ci siamo tutti? mhm no licio mi risulta ancora in... anche a me ok perfetto ok invece ho provato il battle royale di call of duty cavolo è difficile è bello tosto ma soprattutto è difficile trovare il tempo di potenziarsi di sistemarsi l'equipaggiamento aggiungere i mirini ehm caricatori exe tutte quelle cose lì ma la mappa com'è? bella grande? com'è? perchè io non c'ho mai giocato no no è grande quella di di code è veramente grande per il battle royale ehm e oltretutto devi trovare tutto l'equipaggiamento per terra quindi... e poi devi aggiungerti vari pezzi mhm non ho visto se c'è tipo a squadre anche il battle royale o è solo il singolo no sicuramente ci sarà ciao dark ciao cosa? oh ecco cinque secondi e si parte no no invece l'altro battle royale di reta sono anche riuscito a prendere qualche vittoria da solo eh il caruccio non è male dove andiamo? dove andiamo? eh abbiamo già le macchine sui e oppure al benzinaio io vado così vicino al benzinaio io vado qua io vado qua io oggi non riesco a controllare il paracadute se ne va perché il cavo di suono ma io ho mai... tutte le partite che ho fatto non ci ho mai fatto impossibile c'è la macchina è dalla polizia va bene dai what? hai già preso la macchina? vabbè io lutto un po' perché oh cazzo ma c'è uno c'è già sti fucili scusa e ha trovato il fucile a pompa e la skin c'è la skin c'è la skin mimetica ragazzi non avete idea di qualche skin ha trovato occhio che qua sì ma che pensavo fosse uno di voi non è entrata nel supermercato che è lì che mi ha fatto fuori quello col fucile a pompa cacciolato la macchina cacciolato la macchina nooo nooo ah ma la R eh occhio che è quello che mi ha fatto pure a me riaaa va sacro cazzo corri licio corri quello non è amico quello non è amico no nooo siamo tutti mo- ah no no siamo rimasti tu e tu che- che basacro madonna ma cattivissimi guarda eh l'avevo veramente confuso per uno di noi porco cane ecco perchè non gli ho sparato qui 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 girate qui qua qua dietro la roccia dietro a te dietro non di retromarcia vai che mi vedi ragazzi mi tocca andare ok ciao Gigi ciao ciao adesso ti fa da guida a lo stratega che massacro come cacchio se è piccola quella mappa vai a destra si e vai dritto destra ancora ma così ok vai dritto a destra ah fermati su sta cosa qui davanti ci servono le armi fermati qui fermati no fermati sotto sotto dietro a te dietro a te dietro a te retrovarcia qui 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 sotto nasconde il frugone qui io ho questa roccia io ho quella colinetta lì qui io ho quella roccia qui sotto qua sotto ecco così bravo lasciarli lì andiamo qua a prendere qualcosa andiamo qua a prendere qualcosa andiamo qua a prendere qualcosa eh solo pistole pistole erano zaino lì se te serve una mitragliatrice se te serve la vuoi mi prendo fuori la poppa quella sta qui eh questa qui qui dove sono io qui dove sono io qui dove sono io una sanzione una multa emessa al colosso giacconese spiegando dovuta una carenza di informazioni sulle confezioni di playstation 4 e playstation store per quanto riguarda le spese da sostenere per accedere al gaming online seriamente cioè se gli è stata una volta una multa perché secondo loro non ci sono abbastanza informazioni che indicano che tipo devi avere il plus per giocare a determinati giochi è una cazzata cosa? c'è un casco qui una notizia che hanno pubblicato sulla community ma che hanno comunicato non ho capito cioè praticamente l'antitrust ha fatto una multa a sony perché praticamente dicono che c'è una carenza di informazioni sulle confezioni di playstation 4 e sul playstation store per quanto riguarda le spese da sostenere per accedere al gaming online ma personalmente mi sembra una cazzata a parte che quando acquisti un gioco di solito ti viene sempre detto il fatto il negozio te lo dicono sempre ma ce l'hai il plus perché per questo ti serve il plus per giocare ma poi anche quando acquisti sullo store mi sembra che sotto viene indicato se è necessaria una connessione o meno per poter sfruttare le funzionalità online mi sembra di cazzata dov'è la macchina? era quel giro? no è sulla macchina no ora vediamo allora e a sinistra a destra vai dritto o a destra? è dritto sì verso quella macchina in fondo qui c'è la macchina nell'angolino qui c'è la macchina nell'angolino che vai dritto ecco quella macchina lì verso lì vabbè visto che stiamo aspettando che riuscite a vincere o muriate qualcuno ha provato la demo di Resident Evil 2? sì com'è? completata bellissima bello lo prendi Tung? sì 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 l'ho già ordinato vai dritto e poi vai verso destra e segui il fiume destra 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 e segui il fiume segui il fiume finché te lo dico io dai che siete rimasti solo in 43 ma se vai dritto no perché non è niente forse in mezzo a quelle piante dovremmo pure andare a destra a sinistra ah no l'hanno preso come ne ho detto vai dritto ah avanti non c'è un coso viola però qua no la dritto ah lì c'occhio che se premi l1 c'è il lo sprint con la macchina però non cambiamo non scendiamo subito vai 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 eh c'ho pure che ci spara vai 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 no non ti devi fermare devi solo un attimo tirare qui intorno ok non c'è nessuno andrà politico guardati lì prendi prendi tutto occhio 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 c'è gente c'è gente va via va via riccio va via va via povero tunga lo ricorderemo così mentre raccoglie la roba da una cassa occhio macchina a sinistra a destra davanti si circondate fuggi via fuggi via fuggi via no no che cacchio ho sfecciato c'è uscito ahia le granate in piti hanno fermato ahia mettiti in pendenza mettiti in pendenza che continui a correre dagli il turbo dagli il turbo no sei fermata sei fermata devi aspettare che ci si gira da intorno quella visuale mi sanno che spara nessuno quella visuale guardate da intorno si ferma ok vai 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 poi partì è brutta la granate in piti cioè se riesci a usarla è buona perchè metti fuori su una macchina per un po' di tempo si occhio che c'è fuori zona però si è fuori zona e arriva la nebbia arriva la nebbia adesso qui lì ci ricasterà bestia vai dritto vai dritto vai lì ce la puoi fare sei tutti noi vai dritto non c'è no se ferma solo il terzo all'aperta me sa al centro se ci ripenso a me è capitato parecchio prima di ritrovarmi a fare una partita contenamente da solo con il resto della squadra morto ma se troppo ancora restare dovresti andare più in mezzo a vedere se c'è qualcosa meglio più c'è entrato non mi sa che all'aperto si chiude può essere siete rimasti a 40 occhio all'auto della polizia a sinistra lì c'è un cappannone avanti a te verso sinistra dove di una roulotte dovresti partire la macchina non si chiude proprio al centro qualcuno che ti sparano c'è dentro la roulotte occhio 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 guarda lì dietro dovresti rialzare da qualche parte però lontano la macchina perchè se stai vicino la macchina sanno che stai lì chiampera qui su cosa che brutta zona in cui si chiude stavolta si chiude veramente in una brutta zona eh si perchè sull'acqua manco tre polizia come si è messa benzina e se io solo un po' e manco sparata io sono morto io lo stesso prendo la cassa la cassa da che non la prendiamo più eh eh perciò ti dicevo io ho passato tanto tempo io quando mi soffiniva che mi ritrovasse a fare una partita solo con la squadra morta come si è messo quello blu ti è proprio battesimo del fuoco ah proprio lì in mezzo non c'è andata sulla roulotte c'è due che camperai no ma i sicuri sono belli centrati eh è messi fuori no è messi fuori in zona eh ma l'aerolotto in realtà può rivelarsi una trappola mortale perchè se te la prendono tipo con le molotov o roba del genere poi muori guarda lì sono sulla sinistra si ma è anche fuori zona l'aerolotto non è dentro no 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 è dentro vai dentro vai verso quella casa della partoria vai direttamente vai direttamente vai direttamente a te vai direttamente va che la fai a piedi vai dirlo dirlo a tutti Sì, sì, ma che bacio? È per non star farmo lì in zona Come arriva tutto Occhio, lì su una scena strada Ah, c'è qualcuno lì Vedi, se è messo tutti lì Ma è meglio, così partire là dietro Occhio Stanno a sparare No, no, non scendi Occhio, c'è qualcuno, eh Ma trovo lì davanti alle scale No, torna indietro E piazzate davanti alle scale È brutta come posizione Sicuramente è scoperto sulla finestra Ma lo nascondite Mettete dentro la vasca e bagno Ah, ma lì sta dietro Quindi lì non ti arriva nessuno Adesso te dovresti scappar via qua Preparati a andare giù Che sta arrivando la nebbia Sì, arriva la nebbia Adesso te piano piano ti muovi Vai giù E ti muovi piano piano verso il centro Con calma Tranquillo Giù, giù, sta giù Non te alza Forse era meglio con la macchina No, no, arriva la macchina No, è meglio a piedi Sì, è meglio a piedi E' vero quelle piante Ecco, quelle lì Cammina basso Qua lì c'hanno la balestra Guarda come partono le frecce Sa fermo Occhio Ahia, ahia Eh, ancora t'ha visto Sta lì Currete con la frecce in giù Bravo No, non ti muove però Curi con la frecce in giù Che arriva la macchina Questa è qui in mezzo alla nebbia Fermo, fermo lì Fermo lì Currete, currete Currete lì Con la frecce in giù Tieni premuto Ok Sta fermo lì Guarda, ce n'è uno che sta strisciando in mezzo all'arco No, no No, no Se sanno sparare tra di loro Occhio la macchina che ti sta a fare il giro Non hai armi per la distanza, eh Hai un fusilo a pop e una miraglietta Non fai niente da questa distanza Ma d'arte, raga, che fine ha fatto Non lo sento Cominci a andare giù Cominci a andare giù Corri, 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 corri Vai, vai, vai Dove sta arrivarci ugualmente Aia, aia Eh, quello non te ne va d'occhio Dietro la roccia Giro quella roccia Giro quella roccia No, questa è la nebbia Vai, vai Questa è la nebbia, questa è la nebbia Vai dritto, vai dritto Non ti fermare Non stai a correre, stai a camminare Corri, corri 3.000 e 3 Che prima volta che lo vedo così da vicino al bombardamento Fa paura Nooo Eh vabbè dai E per il battesimo del fuoco Non ci arriva a nono Eh direi Oh Per essere il battesimo del fuoco È arrivato in top ten Eh vabbè Per essere la prima partita Si è comunque arrivato tra i primi dieci Non è male Ma Dark c'è ancora Dark? Si so Sì sì Abbiamo perso GG Non ti ho sentito parlare Paga Insomma Farne una senza raccogliere niente No dai Dai senza raccogliere niente è brutto Solo zaino e bende Basta Solo zaino e bende Lì c'è lo vedo Niente arma Ok lì c'è a posto Sono pesanti Non c'è a scappare Non c'è un betto Sterebbe qua Ah niente armi Niente granate Dobbiamo sopravvivere Vabbè dai Per essere Quanto è che non giocavamo D'H1Z1 Uno o due mesi? Un mese Forse è qualcosina Un mese verrai No Secondo me qualcosina in più No no Un mese Eh perché siamo andati su altri giochi Abbiamo fatto le serate Rocket League GTA Ma sarà un mese Una settimana E poi c'è l'apertura Gay Friendly Tutti i nudi Tutti i nudi Che schifo Tutti i nudi Avete visto qualcuno Nei nostri No in realtà no È tutta la serata Che non vedo nessuno Nei nostri Ma neanche tra quelli uccisi Li ho visti Sì abbiamo questo Steel 457 Che sta parlando Ma se non parti Non lo sentiamo Usciamo E lo sentiamo No ma anche no Potrebbe essere uno straniero Non voglio Mettere il nostro Il mio macchino Dove hai visto la notizia Della multa? Eh l'ha pubblicata a Yugi Sulla community Ma a che ora? Oddio non lo so Aspetta Vabbè vai su Google Antitavastro Credo stasera No ma più che altro È che mi sembra di Cioè È una cazzata Dire che non ci sono Informazioni Quando fai l'acquisto C'è scritto su ogni gioco online Che vi chiede Connessione abbonamento Ma dove sul forum L'ha pubblicato Ah no scusa L'ha pubblicato Fulmine Sui Koala Ah no scusa Ugoci o Yugi No allora L'ha pubblicato Yugi Sui Koala E' una notizia Che hanno spumato Quelli di Spazio Games Cioè personalmente Dovrei controllare Ma mi sembra Tra gli acquisti Che ho fatto Sullo store Mi sembra che venisse indicato Se è necessaria La connessione o meno Vuoi che gli utenti Siano dei Pira E non controllano niente Quando fanno l'acquisto E' una notizia Sì Andiamo insieme però Io voto la benzina Sono rosa Bene Abbiamo perso Il quinto l'abbiamo perso C'è visto E' astuto Oh no Eh sì Io l'ho andato via C'è una cassa 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 Dentro Hai aperto te Sì Eh ma non ho visto L'arma dove è andata Ho trovato le municioni Eccola Stavo a dire E' una cappa Invece quello Arancione Dark Dark Segnale Ah sì E' un quad Ok Allora vanno a prendere Siamo a 2-2 Siamo a 2-4 Chi è questo giallo Vado con il giallo Andiamo a prendere Civic Eh volevo vedere cosa c'è Eh un quad per 2 Sì verso Eh verso il benzinaio Eh verso il benzinaio Sì Forse è andata pure una macchina Intanto Oddio Alla giù c'è Dark Qua ci sono degli zaini Che palle Questo è dentro Questo è dentro mi spiega un attimo la mappa non me posso muovere allora sto cercando al centro ma beh io sono al centro all'incirca io ero a me qua è una macchina io ero a me c'è un quarto forse qui oh aspetta qui mi sa che c'è una macchina raga c'è una cassa qua c'è una cassa qua vicino spari spari aspetta aspetta no l'ho presa occhio occhio o l'hai presa tu no sono io ah dovevamo prendere le armi è di giubbotto o scout io gampero qui r1 r1 aumenti r1 diminuisce allora preme pad centrale touch pad r1 ingrandisce sono disposti con la levetta r3 l3 r3 scusa disposti in su e giù l1 la farina sì o sì o sì sono abbastanza defilato proprio in un momento lo metto qui a camperà ok cosa aspettiamo qua cosa facciamo non so prendere la macchina è caso posso c'entra un po' più a nord giubbotto ce l'hai? nord nord ma il tattico o il sì è quello militare come giubbotto sì ok voi c'avete la macchina raga? sì venite a prendere c'è la macchina sì sì o volete star lì e ve la lungo io vi raggiungo io fai lì ok ok dicio vieni da questa parte prendi un po' di roba vieni da qui no siamo all'esterno vieni qua c'è una macchina polizia oggi ma c'è gente da te ma c'è gente da te con fucile i pesci sono non la vedo però ma andiamo da Tung o lo aspettiamo? eh prendi lì ciò prendi lì ci sono giubbotti antiproiettici e roba via vieni a che tu Tung? vieni più verso l'anato andiamo via colpo singolo granate zaini andiamo andiamo via e siamo belli colpeggiati giubbotti antiproiettici ce l'hai Tung prendi il giubbotto qui c'è munizione raga ma qui c'è un'altra cazza fa vicino via 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 vieni 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 andiamo a nord-est qui non c'entra è la cazza dici tante che andiamo alla cazza morimo c'è uno gente 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 c'è viente andiamo a nord-est nord-est anche questa se va in mezzo va giù in fondo dove va vai in raggiù in fondo secondo me si chiude un po' più bassa perché non si chiuderà a confine no si chiude tutto intorno no io ve l'avviso se scende se si chiude ancora io scendo me la gioco po' da cichino dove va giocarmela così lupi ora al nord in montagna vai su quella cazza verde vai su quella cazza verde avrebbe bello se la faccio io sono andato solo verso la montagna va che c'è qualcuno no è qui la cazza ok ok abbiamo il casco l'ho preso vado alla palestra raga ok via eh sono pieno potete salire sulla montagna ehm io andavo verso l'asta eh se io parliamo salire la montagna scendiamo giù dalle montagne a piedi adesso vai verso la montagna in fondo ah si ci lascondiamo come dice tu no vedi c'è lì già fare salire le montagne salire le montagne devi seguire la pezza lì con lo del turbo no come se non ce la fa col turbo non finisce la macchina la buttiamo sotto sotto siamo alla fine della mappa ok sta qui sta qui sta qui esci esci calato giù calato giù calato giù calato giù lascerò lì ok perfetto c'è che chino guaci si 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho andiamo al limite della mappa attenzione e va a fanculo no adesso noi scendiamo la dietro però sta batta capito ti vede tutto capito noi scendiamo la dietro questa volta ah io fai una bella foto adesso manca uno si otto gruppi nessuno ho il cecchino io infatti sto cercando di vedere se riesco a vederli già da qui in mezzo alla foresta ah venite qui venite qui raga acchia dove sei? qua l'altro lato eccoci piano piano vieni giù piano che sta a fare male adesso qui andiamo giù piano piano li beccamo tutti da dietro in teoria in teoria il centro e questa foresta è qui davanti andate giù che arriva il gas è la macchina che mi ha fatto? è esplosa ok ahia come ho fatto fuori cosiddetti cosiddetti dai ragazzi siamo sono un po' ah sono sano non c'è spurtuto curati e andate giù intanto curatevi sento un veicolo a sud ovest andiamo andiamo oh dieci secondi via 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 ma non c'è nessuno qua adesso andate dentro al cerchio che arriverà nel pieno andate dentro al cerchio così sdragliati sdragliati giù 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 e c'è arrivato io ho quella pianta e c'è punto buono ma che punto buono ma sistemizza tutto ma qua non c'è niente occhio gente sopra gente sopra come sopra dov'è tu l'ho che è non correte che peggio non correte che peggio state giù state giù state giù non correte salono tutti da sud ovest poi c'è sta pianta qui che ci nasconde due gruppi siamo noi quattro contro due noi quattro contro due ah no contro tre quattro contro tre raga ecco occhio che sento se stiamo ammazzando vicenda va bene no siamo due gruppi si può ammazzar vicenda qui che arriva dentro la cofa un'apparata a vuoto ecco lì sono sopra dove sopra dove una fila di alberi immagino immagino sono nella fila di alberi eccolo lo sono puttana eva che colpo eh lo vedo liberi ma domanda è andato a mezzo è andato a mezzo quello sta a 89 di energia eh ma sono in due ce la potete fare ce la potete fare dai quello sta a mezzo sono lì proprio davanti a voi sul confine fermi fermi eh no li vedo li vedo fermi lo sai che fanno a dire calmi calmi che fanno a mezzo occhio occhio non li colpisci calmi state calmi non li colpisci ma starvi occhio adesso potrebbero arrivare se ci avete fumoglione sparatele adesso che ci vuole le granate com'è che faccio con sì però da sotto è per alla non lì no no questi sono stati loro davanti è andato avanti è andato avanti fermo lì fermo lì vai eccolo vai dark vai dark 4 davanti a te sono 2 dark eh no sono 3 dark sta parlando sono un perito fai il giro dietro ora ti a sinistra a destra a destra cavolo ma non entri ancora beh dai dai è andata bene però dai non è male secondi ah tu partite ha salvato la clip per essere dei newbie che giocavano una volta ogni tanto che sfiga porco giuda eh non eravamo in una buona posizione vi hanno beccato con la molotov dark mi risulti ancora nel match a 5 no sono uscito eccolo lo vedo da dentro completiamo match phone c'è raga che mi ha fatto la pinza stasera se ho salvato un pelo ciao Adesso vedo anche qualcuno senza testa Dark è addirittura senza testa Bello Il uomo senza testa Io non mi vedo Eh perchè ci metto un po' a caricare Oh che bella quella mimetica che hai trovato Mi piace Quella mimetica E Dark c'è una giochetta mimetica Ma chi l'hai rubata? Ma no l'ha trovata nel casso La fulmina Non sa quanto sta sperando Beh dai comunque bisogna dire che dopo le vacanze e le serate stanno facendo impieno Cos'è sta nebbia Io vado su quello sinistro Siamo addirittura al centro raga Al centro siamo Vivo solo questo Io sono nel porto Sì comunque sono anche sistemata Ho avuto la mia stessa idea Una cassa Anche se sistemano la caduta Ed è un Oh Ma che bel veicolo Ragazzi la desert eagle No aspetta c'è una cassa Questa è la prima volta che becco la desert eagle Aspetta Qualcuno di voi l'ha mai usata? Com'è come arma? C'è un caos C'è un caos Vediamo se questa Oh c'è il millino raser là del desert eagle Io non sto trovando un'arma Eh io ho avuto fortuna ho trovato una cassa Ragazzi mi sa che è un pick up No No è un quad Vaffanculo Non c'è niente qui Tutte le case vuote Dov'è tu? Vai l'avanti Vai l'avanti Ma non c'è niente Penso ci sia qualcosa Ma dai ma è tutto Ma è tutto vuoto Dai Ma dai Ma è tutto vuoto Ok eccomo Ok eccomo Ok eccomo guarda ma a me deve piacere l'obiettino c'è un cacchio ma qui mi segna un veicolo ma non lo trovo ma qua siamo al centro però devo andare a mettere quel negozio in toria allora c'è un negozio sotto ma che sono? aspetta siamo lì oh lì ci sei morto è verso sud avest ma siete morti? no perchè non vi vedo più l'energia? ok vai dritto vai dritto no no ma aspetta sono di là e con il tipo ha trovato lui la jeep io sono il verde voi dove siete? ma siamo andati verso l'olio? ma siamo andati verso l'olio? si anche noi ci siamo qua eccovi andiamo con lui andiamo con lui andiamo con lui dove è sceso? e perchè quando vi ho avuto? ma posso di c'è la più bella di aki? dove vado? posso andare a sud verso i negozi continua dritto eh lo vedi nelle rocce mappa? e se non ho visto pure la roccia era poi da noi questo negozio comunque certo è più giù e più giù e dietro al lago dietro al lago il cerchio ma più che il lago così e poi i fucili ma se tu superi il fiume se tu superi il fiume vedi c'è un pallino viola se tu vai dritto quello è il centro ma non c'è quello è se tu vai dritto se tu vai dritto dopo il fiume quello è il centro la teca che esce su quello ma non c'è un giubbetto raga a tutti ma c'è un giubbetto ma non c'è niente ci sono gli elmetti qui se volete c'è qualcuno che spara c'è qualcuno che spara andiamo qua sopra ma il tasco ce l'ho chi è che spara? ah siamo fuori zona comunque andiamo sulla macchina raga raga andiamo sulla macchina no no è lui che ha trovato qualcuno andiamo sulla macchina bene lo avete postato anche qualcosa danno sia una macchina no è vero la puoi riportare andiamo via, andiamo via ah lì? dove sei? beh, in macchina ma dov'è la macchina? vieni qui, vieni qui vieni qui, vieni qui che stavo andando alla macchina vieni qui, vieni qui vieni qui vieni qui, vieni qui che ce che preghe guarda tutto, guarda satu vieni qui va via, va via, va che ce che che lettera va accolta va via, la osservazione che cosa? Ok... erano in parecchi e fin qui perchè qua ci sono si ma mi sa che c'è ancora distante perchè qua ancora non si vede nella mini mappa eh sono tutti qua adesso bella meglio di yuki dai occhio che sta fumando la macchina eh eh occhio che poi esplode non è via dimmi ne avete una che si avvicina eh lui dimmi occhio tungle che hanno preso quello dell'altro vicino a te eh lo sa tanto lo devo fare l'arigina ok ragazzi sono andate verso tung non so neanche dov'è era alla vostra destra vabbè scappo l'hanno impallinato praticamente mentre entrava in casa eh e occhio a destra di ciò che l'idon mi sa che ce n'è un po' sulla destra eh vedi kit vedi kit quelli prendi io che sono sempre utili ah è lì c'è ah occhio occhio davanti voi davanti voi eh lì ciò devi migliorare la mira c'è l'uca e dai dodicesimi ah si la corsa mi sa che effettivamente l'hanno l'hanno modificata lui era più veloce quando correva facciamo l'ultima facciamo l'ultima l'ultima partita della serata bene e domani sera invece abbiamo gta giusto? si ok 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 sì tra l'altro il caricamento un po' lento le teste nelle fa fatica a caricarle Sì Anche fortnite prima o poi dovremmo riprenderlo Anche fortnite E' vero che le serate non sono state proprio un successo Però dovremmo riprovarci A costruire case Hanno messo la modalità creativa Sì ma non lo tocco da una vita Ah proprio ci hanno messo la modalità creativa Ma continuano ad aggiornarlo Effettivamente il bello di quel gioco è che continuano ad aggiornarlo Continuano ad lavorarci sopra Ah ma no tutti li aggiornano Anche questo li hanno aggiornato Sì beh di meno in realtà H1Z1 No Per esempio H1Z1 ancora non hanno messo la modalità Con gli zombie Sarebbe bello che lo aggiungessero E in realtà questo su Su PS4 è ancora in beta H1Z1 No no Non è più beta No è uscito? È uscito Vedo tanti par cadute che scendono ragazzi Non è questa una cosa positiva Anch'io C'è tanta gente che sta scendendo nella nostra zona Io mi preoccuperei E infatti questo C'è tanta gente che sta scendendo nella nostra zona Non lo so Lontano da qui Non ci ho prende Non ci ho prende Vai 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 Cazzo Vai 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 voi noi. Dov'era? Lì, dritto a me, giusto? Dai, scendi bastardo, lo so che devi venire, dai. Dai. Allora, qui? È là dove ci sono le case. Dove abbiamo iniziato? No, io non salto. Ma tu muori. Tu muori. Ma sanno lì a te? Ma dove hai trovato dell'arma? Scusa. Una pistolina. Voglio anche una pistolina per combattere. Ciao. Ecco. È ucciso quello? Sì. Ehm, c'è un killer. Il bandidos. Il peccato è che non ho nient'altro. Gli ho rubato la cosa, la balestra, ma ci serve qualcos'altro. Occhio che siamo, dobbiamo andarci. Occhio che stupio questo. Occhio. Vkm, ZMくce. Vida, vida, viva! Sto da dio odio, i grilli. C'è una cassa? Dove? Tu ho sentito il rumore? Qui qui C'è un cecchino? Non è un cecchino, va C'è un cacchino? 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 Come c'è uno di roba? Oh cazzo Scusate L'ho presa un po' sul personale forse sta partita Però sono state due grandi uccisioni Questa salvo la clip Vabbè dai, ventesimi Per com'è andata direi non male Che ore sono? Meno dieci Volete farne un'altra o chiudiamo? 8 7 6 Vabbè un'altra Ciao a tutti Questa è quella buona Beh l'uccisione con la balessa mi è piaciuta infatti è Quella è stata bella Ma ti avevo ucciso quello che stava scappando col quad Tung? Io mi so, stai fermo Allora Grazie. Sì, sì, ma li trovi abbastanza spesso, in realtà, li stivano. Sono le casse, quelle che fanno fatica. Allora, gente intorno a noi, sì, vedo qualcuno dietro, ma credo sia il nostro compagno, o forse non, sì. Non ne sono sicuro. Oh, sono finito, sono finito sul tetto. No, ci sono le scale? Penso di... sì. Ottimo. Allora, occhio che non so se quello che è entrato era... Laga, c'è uno. Ecco, non era con noi. Ah, ce n'è uno? L'ho sentito. Non l'avevo sentito. È lì... il negozio. Mm-hmm. Non è che ha salito... piani alti. No, no, sta sotto. C'è un bago, la pistola? È là dietro, lo vedi? Dietro... Come... Come lancio le... Ecco, fuggi la pompa, ecco, fuggi la pompa. Come lancio le bombe? Colare uno. No, mi sa che non ne ho scappato di qua. Chi è quello che ho fatto? Coglione. Oh, schia. Ah, non sei te. Ah, sì, era lui con noi. Voi hai levato fuori? Oh, ci sono gli stivali qui. Ah. È un negozio di scarto, questo. Come stiamo a... Stiamo un po' a bordo, effettivamente. C'è... Non è un negozio sportivo, vedi? Che piedi... E' un negozio di articoli. Beh, io ce l'ho già. Anzi, per... Per migliore informazione, questo è un negozio di articoli di caccia a pesca. Hanno stivali, armi. Che ciò ne danno la so a piedi? Qua sono la cia a piedi. Oh, lui è trovato una... Da Arca c'è una macchina. D'Arca la ciavromacchia Eccone una Aspetta Adesso ho dritto a te A sinistra E dritto Allora vedi Dov'andate Vanno lì e d'asta Li vedi, dira a te Ah ma ce n'è una tu Ma fa che una macchina sola no? Vai Ah niente Con la ciavromacchia No, c'è un ciavromacchia Guarda cosa sta distruggendo la macchina Sì, quello è uno di quelli che quando poi ti scolgono sulla macchina muori al volo No, c'è un ciavromacchia Prendi, prendi quello Sarà una maldiviniccia Guarda cosa sta distruggendo la macchina Guarda cosa sta distruggendo la macchina Sì Non c'è nulla perché è sceso? perché c'è la cassa? riccione non scendi? aspetta a te riccio era pure in casco lì guardatevi torno Sì, non ci va qualche banda? Sì Mi sono leggermente ferito scendendo dalla macchina Non ci sono troppo davanti a noi Madonna Si è morto Tirare la macchina Ma ce l'ha fatta Sì, si Le voglia Ce sono due Uno guardo in zona Occhio Occhio La macchina Ah, sta andando via Dai ragazzi, quello lo scatta Ma c'è il casco lì, perché non lo prendi? Ha quello colore 2? Sì La macchina Stai No ok 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 cazzo eh perchè c'è un altro dietro l'altro non so ok ma cazzo buona che accerchiamento non so non so non so non so non so mamma mia eh stiamo finiti un po' fino da prontazione guarda eh vabbè eh va bene dai chiudiamo qui sì bene allora ragazzi grazie per averci seguito e quelli che erano collegati grazie agli amici di youtube che vedranno domani mattina questo video adesso lo ribalto subito lì e vi ricordo che domenica sera siamo in live con GTA 5 la solita serata a cazzeggio con sfide e tutto il resto quindi questa sera è tutto ringraziamo i ragazzi della community e ciao a tutti grazie 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 grazie